Ciao amici di Goricia TV, dopo due anni ritorna la parata folcloristica però peccato, ha cominciato a piovere proprio giorno alle ore 17, guardate un po', adesso guardatevi il servizio. Se partivano prima però... Arrivano le Corriere Purtroppo il folklore, c'era anche un lampo, un bel tuono di quelli giusti eh Saluto Proderut, guardate la pioggia, sta rovinando la parata folcloristica, eccoli qua tutti sotto sentite che tuono un tuono mega galattico ragazzi però se partivano prima alle 13 dicono tutti e a quest'ora era già finita la manifestazione invece adesso si vedrà guardate un po', la gente tutta sotto qua c'è la gente che sta aspettando in vano perché la sfilata è stata annullata e guardate un po' la grande sfortuna di Gorizia folclore dov'essere una bella sfilata invece niente la gente era già tutta in posizione però è stata annullata è stata annullata eh è stata annullata è stata annullata e Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Ci sono dei gruppi veramente bellissimi, molto entusiasmanti, insomma, peccato per la pioggia di oggi, ma il resto hanno proprio organizzato bene, che stanno proprio a vincente. Special. Vediamo cosa dici tu, cosa dici? Sì, sì, dai, peccato per la pioggia. Peccato per la pioggia. È stato carino, adesso che sono passata, non sono andata comunque. Sai cosa è il bello? Che doveva essere annullata, almeno hanno fatto qualcosa di piccolo. E' vero, è vero o no? Allora, un salutone, ti saluto, ciao. Ciao. E saluto la mamma. Ciao mamma. E chiudiamo il servizio. E chiudiamo il servizio. 28 più 26, 18 e 31. E chiudiamo il servizio.